Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Volevo in questo video tecnico molto breve illustrare le differenze principali tra il back squat e il front squat. Non intendo parlare tanto di attivazione muscolare, ipertrofia delle cosce o robe del genere, le gambe grosse. Semplicemente mettere l'attenzione tra le differenze di angolo tra il back squat e il front squat e spiegare anche perché ritengo il front squat una variante migliore. Attenzione, non ho niente contro il powerlifting, non mi interessa neanche tanto come sport, dico soltanto che il powerlifting non è la quintessenza del lavoro con i pesi, semplicemente questo. Comunque, adesso seguire le due differenze di esecuzione tra il back squat e il front squat. Il back squat in questo video lo eseguo con l'appoggio basso, detto low bar, quindi quel bilanciere sopra i deltoidi posteriori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Il front squat non necessita necessariamente, non necessita per forza di cinture in cuoio per tenervi compatta la spine dorsale, in quanto appunto il busto non ha questo angolo eccessivo e spesso il front squat non necessita per forza di questo tipo di scarpa che invece è molto più utile nel back squat. Se fate pesistica, strappo e slancio questa ve la consiglio comunque perché vi evita di ribaltarvi all'indietro. Ad ogni buon conto tralasciando la pesistica anche chi fosse semplicemente interessato a costruire un fisico forte e ipertrofico io consiglio comunque il front squat, molto meno impattante sulla colonna vertebrale e molto più semplice da capire e poi da eseguire una volta apprese le regole fondamentali. Allora la prima regola del front squat è che l'impostazione è una sola, l'appoggio è sulla clavicola, la discesa è totale, c'è chi lo fa comunque sotto il parallelo senza scendere del tutto non è un problema, uno lo può fare come preferisce, basta che almeno si infranca il parallelo insomma ecco. Poi un appoggio unico dicevo senza high bar, low bar eccetera eccetera, base unica corta non wide stance, narrow stance e quant'altro, migliore attivazione muscolare secondo me a carico degli arti inferiori e penso che come esercizio in sé sviluppi una maggior elasticità sia più diciamo atletico come esercizio essendo anche quindi più profondo. Un'altra cosa nel front squat si può scendere ass to the grass senza compromettere minimamente l'assetto del racchide e del bacino, nel back squat non è così semplice soprattutto se non si hanno scarpe rialzate. Vi lascio adesso a un breve dettaglio, una breve spiegazione insomma sull'appoggio clavicolare, vi faccio un video per farvi capire che l'appoggio va proprio davanti alla trachea e sopra le clavicole e questo vale ovviamente per il lento, avanti anche. Quindi la clavicola ha una doppia funzione, quella di sostenere le bilanciere nel front squat e anche quella di sostenere le bilanciere nel military press. Anche qua io vedo gente che fa il military press appoggiandoselo sui pettorali per me è una cosa sbagliata perché c'è un arretramento dei gomiti e quindi gli avambracci vanno fuori spinta. Inoltre il trasporto del bilanciere è abbastanza fastidioso nel senso che avere un bilanciere galleggiante davanti alla gola e portarlo a spasso dentro e fuori dal rack è abbastanza menoso. Insomma ecco io preferirei sinceramente risparmiare l'energia, anzi preferisco risparmiare l'energia e dedicarla al sollevamento in sé. Anche perché già è duro far pesi, se non deve anche complicarsi la vita con appoggi barcollanti, non è il massimo. Il military press anch'esso non ha bisogno di cinture ma ne parlerò in un video a parte. Questo è tutto, buonanotte a tutti.